Allora, buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio, vedo che abbiamo un'ottantina intanto di partecipanti, faccio una brevissima introduzione ma proprio molto breve per lasciare poi la parola all'assessore che poi deve lasciarci per altri impegni ma che voleva presenziare l'apertura di questi lavori. Siamo a un secondo appuntamento annuale delle iniziative che l'osservatorio da un po' di tempo ormai promuove. Oggi, come vedremo, la giornata è divisa sostanzialmente in due parti. In una vi proviamo a restituire una prima sintesi attualizzata, un po' del lavoro che abbiamo fatto e che abbiamo intenzione di fare sull'osservatorio e in particolare con un approfondimento su alcuni primi dati di sintesi sul fondo per l'affitto che, come sapete, quest'anno abbiamo raccolto su base regionale e sostanzialmente integralmente per via informatica. Abbiamo la partecipazione del Comune di Bologna con Marco Guerzoni perché stiamo aderendo a una proposta del Comune di Bologna e della città metropolitana di uno specifico loro osservatorio che naturalmente si integrerà e collaborerà con i dati già disponibili in quello regionale perché è evidente che il tema della conoscenza e della condivisione dei dati e della qualità dei dati è un tema assolutamente rilevante sotto molti punti di vista. E poi dopo un brevissimo question time, se ci sarà, di chiarimenti, di questioni, abbiamo una parte, una seconda parte, diciamo in un qualche modo nuova che credo molto, di cui siamo, io personalmente sono molto contento, di cui ringrazio Arte per la collaborazione perché mettiamo finalmente a regime, pur anche in una prima versione che naturalmente potrà avere anche sulla base di suggerimenti, indicazioni anche delle implementazioni, però diciamo mettiamo a regime, mettiamo disponibile direi quasi per la prima volta una serie di informazioni, di dati, di contesto generali che credo potranno essere molto utili, naturalmente diciamo per ragionamenti, approfondimenti sul tema dell'abitare, delle politiche per l'abitare, ma come vedremo dopo sono dati che possono essere utili in maniera più allargata, ancora di più direi in una fase in cui molte amministrazioni sono comunque attivate, sono nella piena fase di avvio o di redazione e di aggiornamento dei loro strumenti urbanistici per l'adeguamento alla legge 24, perché naturalmente poi gli argomenti non sono mai scollegati. Io lascerei la parola a Barbara Lori, che so che dopo deve scappare, per una sua apertura dei lavori e poi la riprendo per coordinare, diciamo, queste due ore di chiacchierate, di illustrazione con voi. Grazie, grazie Marcello e bentrovati a tutti e a tutti. Io sarò davvero brevissima perché appunto ho necessità di scappare per una serie di combinazioni che nel frattempo sono intervenute, però effettivamente ci tenevo molto, insomma, a portare i saluti anche in virtù del fatto che da pochissimo tempo, come credo sia noto a molti di voi, mi occupo di politiche abitative, quindi quella di oggi è una, come dire, una scadenza, un'opportunità rilevante per fare un primo focus, come diceva l'ingegnere Capucci, non solo sui primi dati legati al contributo per l'affitto, ma per riavviare, avviare, implementare una dimensione che ha molto a che fare con l'osservatorio di cui si parla oggi, che possa consentire a noi, ma anche ai territori e agli attori che sul territorio operano, quindi penso ai comuni in particolare, ma anche alle acere e altri soggetti, per poter di fatto avere una lettura attraverso una serie di informazioni che aiuti a mettere in campo tutte le azioni, anche in termini programmatori, che sono assolutamente indispensabili nel cercare di migliorare la capacità di dare complessivamente risposte a una domanda abitativa che è diversificata e che è tendenzialmente, mi sembra di capire insomma da quanto ho potuto osservare in queste prime settimane di lavoro, tendenzialmente in forte crescita, quindi c'è una diversificazione anche dal punto di vista della tipologia di domanda che può riguardare l'ERPA, ma anche l'ERS e una serie di proposte, penso al patto per la casa, che vogliamo certamente implementare, che hanno tutte quanti bisogno di uno sguardo che ci aiuti a migliorare l'offerta e ad andare in una direzione che sia il più possibile capace anche di efficientare il sistema nel suo complesso, quindi siamo impegnati in questa direzione, in queste settimane tengo a dire abbiamo avviato alcune interlocuzioni in particolare con le ACER e con alcuni territori, a partire dal mese di gennaio questo lavoro sarà più assiduo puntuale e anche nella prospettiva insomma di costruire e di definire in modo un po' più circoscritto il percorso di lavoro del prossimo anno e anche di quelli successivi, quindi oggi è un incontro piuttosto come dire frugale per questione di tempi, ma molto volentieri creeremo le occasioni per poter riprendere una serie di temi programmatici ma anche operativi a partire appunto dall'inizio del nuovo anno, quindi io ringrazio tutte le persone che sono collegate e che hanno accolto quindi positivamente e favorevolmente la proposta di questo appuntamento, di questa iniziativa di approfondimento, naturalmente un ringraziamento all'ingegner Capucci e a tutto lo staff che con lui si occupa di politiche abitative, Arter che collabora con noi sullo sviluppo di questo progetto e naturalmente tutti i partner e coloro che rappresentano non solo un'interfaccia ma davvero quel tavolo di partnership e di collaborazioni che insomma auspichiamo possa aiutare tutti a fare sempre meglio ed essere sempre più capaci di generare ricadute positive rispetto ai cittadini che non sono nostri interlocutori e che ci stanno esprimendo veramente un bisogno molto forte in termini di risposte, quindi grazie, buon lavoro e arrivederci a presto. Grazie, grazie all'assessore. Io senza tanti preamboli darei adesso la parola a Raffaele, Raffaele Lelleri, che come sapete lavora nell'area rigenerazione urbana e politica per l'abitare e si occupa espressamente diciamo di tutto, di seguire processi anche di innovazione sul tema dell'osservatorio perché quest'anno credo abbiamo fatto un'operazione molto significativa che è stata quella di passare a una piattaforma completamente digitale su tutto il territorio regionale, fatta eccezione come Bologna che era già ampiamente attrezzato sotto questo profilo e soprattutto al di là del digital abbiamo credo agevolato sia ai cittadini ma penso anche alle amministrazioni molto il compito perché siamo riusciti a sostanzialmente eliminare la necessità di allegazioni di materiali e siamo andati a recuperare, come dire, nelle fonti ufficiali, nella fattispecie sostanzialmente nei database dell'Inps. La raccolta digitale naturalmente, cioè la raccolta non filtrata, come dire, produce anche qualche effetto collaterale che però credo, mi pare di capire anche dopo Ciro Sarafede, siamo riusciti finora a gestire e quando dico siamo intendo non solo come regione ma come territori, siamo riusciti a gestire finora credo in maniera molto buona e quindi lascerei a Raffaele invece di raccontarci e raccontarvi un po' qual è il quadro di insieme perché naturalmente questa modalità di raccolta ci consente di avere praticamente in tempo reale o quasi già delle informazioni abbastanza rilevanti, abbastanza utili. Come sapete poi c'è anche il tema di una successiva, come dire, attività di back office sulla quale stiamo lavorando ma che sarà eventualmente oggetto del seminario dell'anno prossimo se riusciamo ad arrivarci in completarla nei tempi che ci siamo.